Si è svolta questa mattina presso la Sala del Bar Caprice di Pescara la conferenza di presentazione dell'evento nazionale più atteso dell'anno, la Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia, che andrà a scena sabato 26 giugno. L'Abruzzo parteciperà con i suoi borghi più suggestivi sulla base del format che l'Associazione ha studiato. I temi sono l'amore e il romanticismo rappresentati ed esaltati da scenari come Cene e Lume di Candela, visite guidate, mostre, recite di poesie, rappresentazioni teatrali, tanta musica e balli. Il tutto sotto l'affascinante cornice del nostro entroterra. A presentare l'incontro Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione i Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Mollise, accompagnato dall'amministratore del Comune di Penne, Camillo Savini, dal sindaco di Abbateggio, Gabriele Di Perdomenico e dalla consigliera comunale di Guardia Grele, Evelina Dorisio. Una manifestazione che giunge alla sesta edizione e che non si è fermata nemmeno la scorsa estate, seppur vissuta con tutte le limitazioni dovute all'emergenza Covid. Quest'anno si ripropone a maggior ragione come segnale di ripartenza e come spinta audace al turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia. La novità di quest'anno sarà il focus, l'amore per l'arte, un fil rouge che legherà idealmente tutti i borghi i quali dovranno scegliere un'arte di riferimento tra pittura, scultura, teatro, danza, cinema, su cui incentrare gli eventi. Vivere una giornata all'insegna della bellezza oltre che del romanticismo e dell'idea della notte romantica è utile per comprendere ancora meglio l'importanza dei borghi che tanto se ne fa un gran parlare in questo periodo anche con i recovery quando si parla appunto di sviluppo e di rilancio delle aree interne. Ebbene noi come club abbiamo pensato proprio a dedicare una giornata intera intorno all'idea del romanticismo per parlare delle bellezze dell'architettura che c'è nei borghi. Come ogni anno il dessert, scelto e creato da uno chef famoso, sarà servito durante le cene a lume di candela organizzate dai ristoranti dei borghi che aderiranno alla serata. Quest'anno il dolce porta la firma di Simone Ruggiati, lo chef influencer che per l'occasione ha creato il suo pensiero d'amore a base di fragole, crema chantilly e peperoncino. Ripartire dunque dalla bellezza e dai sentimenti come l'amore e il romanticismo creando una stretta sinergia con l'arte che abbraccia e accoglie anche il gusto.